o devi dirmelo quando Romero non ti giochi a me aspetta che te lo alzo no no basta meglio meglio così noi abbiamo fatto il percorso alternativo questo ho detto ascoltami facciamo un altro pezzo facciamo da qua o di là questo puoi portarlo a casa puoi fare un bel quadro in basso non in alto dopo ributta fuori tutto grazie 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 grazie